Ben ragazzi, ben tornati su Strongman Italia, siamo con la prima intervista al campione italiano di Strongman 2022, Andrea Invernizzi. Ciao Andrea, come stai? Ciao Luigi, bene, grazie per l'intervista. Bene, bene, era sicuramente doverosa come intervista a partire soprattutto da te, visto il risultato che ho trovato quest'anno, ma prima di parlare della finale e della vittoria vorrei partire da prima, leggermente prima. Nell'ultimo mese, prima di finale, comunque non sei stato con le mani in mano e non hai solo preparato la finale, ma bensì hai fatto due gare importanti. Quindi ti voglio chiedere come sono andate queste gare e poi come hanno inciso queste gare sulla preparazione finale e sulla finale stessa. Sì, prima della finale ho partecipato a due tappe della Strongman Champions League, una è Romania, per la quale ho avuto poco preavviso due o tre settimane prima della gara. Abbiamo cercato di prepararci al meglio, la gara secondo me è andata molto bene, con degli eventi molto favorevoli come le solde che ho vinto, il low lift dove sono arrivato secondo. Sono alcuni eventi molto favorevoli per me, purtroppo il risultato finale è stato condizionato da due problemi tecnici, uno sul track pool dove ho avuto problemi di grip con le scarpe e l'altro nelle altre stone dove abbiamo utilizzato sia io che Alessandro, che era mio compagno di gara in Romania, un attacchi non adeguato alle condizioni meteo, quindi un attacchi adeguato a temperature più miti, mentre faceva molto freddo e pioveva quel giorno. Per cui ho portato a casa un sesto o settimo posto, del quale sono comunque contento considerando che ho fatto praticamente tre prove su cinque. Invece poi in Gibraltar si trattava dell'ultima tappa della Stormy Champions League prima delle finali in Turchia, quindi c'era un line-up molto agguerrito con personaggi molto di rindievo come Gavin Bilton, che è Gavin The Raider, Ivers, Smart Tennis, che sono tra l'altro mio compagno di stanza durante il periodo della gara. Era stata una gara molto molto agguerrita, con degli eventi particolarmente adeguati a, diciamo, i ragazzi un pochettino di statura media, Mentre noi, i ragazzi un po' più alti, siamo stati un po' svantaggiati, tant'è che nelle ultime tre posizioni eravamo, appunto, siamo arrivati io, Mika Torro e Gavin Bilton. Diciamo i più piccoli della line-up, praticamente. Ho salvato solo Kelvin e The Raider, perché comunque c'era un evento di Tuckpool che ha completamente dominato. È stata una gara interessante, molto educativa, per quello che ho potuto, diciamo, esprimere. Sicuramente non il tipo di gara che mi sarei aspettato che avrei voluto a livello di risultato. È stata una gara che mi ha provato molto, anche fisicamente, perché, insomma, per dimostrare che sia l'altezza della concorrenza, è una gara dove ho dato veramente tanto. Sono tornato particolarmente disfato dalla Gibraltar, anche perché ho avuto solo una settimana di preavviso, 4-5 giorni rispetto alla gara, per cui, quando succede questo tipo di cose, si arriva a fare degli eventi totalmente impreparati, che ti stressano anche molto di più fisicamente, dove rischi anche di farti male, in alcuni casi. Quindi, sì, questo più o meno è stato il mio avvicinamento alla finale. È un po' particolare, ma sicuramente ti ha attemprato per quello che sarebbe successo poi lì a poche settimane, perché poi, se non sbaglio, la Gibraltar era due o tre settimane dalla finale? Sì, era tre settimane, due settimane, sì, poco più di due settimane prima della finale. Sì, due settimane, perché quando poi sono rientrato, subito il giorno dopo, ho iniziato a fare un'ultima settimana di preparazione per la finale. C'erano alcuni eventi che non avevo avuto modo di allenare durante la stagione, in particolare lo yoke e il trasporto delle keg, per cui erano, ecco, anche le stone non ho allenato particolarmente, per cui abbiamo fatto un'ultima settimana più che di allenamento di prove, proprio fisicamente provare gli eventi, dopodiché abbiamo fatto una settimana di scarico. Dico abbiamo perché io poi mi alleno sempre con i miei ragazzi in Bulwark, con Alessandro e tutti i ragazzi del team Bulwark, quindi, esatto, ho fatto quello che ho potuto in quell'ultima settimana lì, poi ho fatto una settimana di scarico e mi sono presentato in gara un po' spigucciato, perché chi mi ha visto nelle ultime settimane mi ha visto proprio a pezzi. Sì, mi ricordo che mi hai detto che eri stanco, che tra l'altro hai avuto anche l'influenza, se non sbaglio, no? Sì, dopo Gimilterra sono stato poco bene, ho avuto... Anche Ale, io stesso, ho avuto l'influenza, penso sia stata quella stagionale, che fra l'altro è stata anche abbastanza lunga e abbastanza con una dirigenza, cioè a me personalmente mi ha buttato giù parecchio rispetto al mio standard di allenamento, cioè ero molto più faticato, però comunque si fa quello che si deve fare e si va avanti lo stesso. Mi ricordo che ci siamo parlati e mi ha detto, non so come andrà la finale, sono stanco morto tra la Romania e Gimilterra, ho detto, guarda, riposati e basta, cerca di recuperare e la finale andrà come andrà. E la finale, beh, com'è andata la finale, Andrea? Beh, alla fine è andata bene, non pensavo... Ero anche molto dimotivato, quindi anche psicologicamente non avevo quella carica che di solito metti in una prestazione agonistica, in una gara, infatti mi ricordo che c'erano i ragazzi dietro le quinte che si riscaldavano già, io sono arrivato un po' per ultimo e mi guardano Ale, Paolone e Ema e mi dicono allora, e io gli rispondo dicendo, beh, andiamo a casa. E loro mi dicono, ah, siamo messi bene tutti qua. Sì, non ero particolarmente motivato, però ecco, diciamo che la prova che mi preoccupava di più, perché appunto è quella che ho potuto allenare di meno, e perché poi non si adegua tanto bene alle mie caratteristiche, che era la prima, quindi il trasporto delle keg e lo yoke. Avevo fatto molto male all'inizio stagione nello yoke, nella gara in Repubblica cieca, diciamo quell'evento lì mi ha costato la vittoria in quella gara lì, perché sono arrivato poi terzo, quindi ero un po' sfiduciato, e invece in fin dei conti l'evento è andato bene, mi è andato particolarmente bene, e da lì in poi diciamo che mi sia un po' come posso dire, mi sono un pochettino più rianimato, anche a livello di motivazione, sapevo che le altre prove mi erano più congeniali, sapevo di poter far bene sia nello stacco che nel log, che nel frame hold, e poi le stone... quindi diciamo da lì in poi ho avuto più motivazione, ero più convinto di potercela fare. Ok, ok. E da lì in poi, diciamo, ne parlavamo prima offline, prima c'è stato lo yoke, quindi un evento comunque di trasporto abbastanza dinamico, e poi altri eventi anch'essi comunque dinamici, perché poi tra log, stacco, frame, insomma, il frame forse è l'unico un pochino più statico, dove si tende più a utilizzare la resistenza, il grip, e anche un po', diciamo così, anche le padle, no? Fondamentalmente perché è anche una tenuta mentale più che fisica, perché avendo le fasce non c'è così tanto il problema del grip, e sicuramente, soprattutto per te, non era magari il problema del grip, ma era appunto il problema del peso da dover tenere per tanto tempo e la respirazione eventualmente. È stato un elemento tassante un po' per tutti, devo dire, secondo me. Scusami se ti interrompo, dato che parliamo del frame. Sì, sì, sì. È una prova di cui mi sono lamentato un sacco in avvicinamento. Lo so, lo so benissimo. In avvicinamento alla finale, perché, non perché non fosse una prova che non volessi fare, lo sapevo comunque di poter far bene anche con gli straps. È una prova che, sì, si è vista qualche volta all'estero, però quest'anno non l'abbiamo mai trovata nelle gare internazionali, mentre abbiamo sempre trovato l'evento di grip, per cui speravo non ci fossero gli straps, ma per un discorso di preparazione degli atleti alle gare anche internazionali, dove la prova di grip si trova normale sempre. Sì, però sì. Abbiamo fatto gli straps... Più in Ecole Sol, probabilmente, non sono sbaglio, però il principio è più o meno lo stesso. Sì, insomma, il principio è del grip, mentre la prova è una prova di resistenza che a me personalmente dava noia il tricipite sinistro, non so perché. Facendo questo esercizio qua avevo sempre dolore al tricipite sinistro, in allenamento non ho mai forzato più di tanto. In gara, invece, ho sopportato il dolore, non avevo problemi di respirazione o a trattenere il frame. Era proprio una sfida contro il sopportare sto male particolare che avevo al tricipite, non so perché. Poi, fortunatamente, insomma, i ragazzi hanno fatto un pochettino di meno di quello che avrei potuto fare, per cui, diciamo, ho lasciato il frame nel momento in cui sapevo di aver vinto. È stato sufficiente così. Invece, per quanto riguarda le prime prove, diciamo, avere le tre prove di endurance una dopo l'altra non è stato proprio il massimo. È interessante di endurance da uno che fa strong, nel senso che i carichi, probabilmente, per te erano abbastanza bassi, ma in realtà, ma in parte anche per gli altri, perché comunque siamo sulle otto rep, per chi ha vinto nel log e nello stacco, probabilmente un carico maggiore avrebbe creato, diciamo, diciamo, delle ripetizioni un po' più basse, quindi andando più sul lavoro massimale che sull'endurance, poi le nuove ripetizioni sono effettivamente tante. Io, se non mi sbaglio, se non mi sbagliarlo con lo stacco, che ti ho guardato e ho fatto Andreone ti serve l'ossigeno per caldo, mentre sì, perché è di bianco più o meno come la parete che hai dietro, quindi ci sta, uno deve tirare al massimo e quello è il risultato, cioè è quello che bisogna fare, dipendentemente da tutto, che siano 3, 4, 10 rep, 15 rep, uno deve tirare al massimo. Ho rivisto poi il video e ho notato che, meno male, la velocità di esecuzione di tutte le rep era più o meno la stessa. Quello che veniva a mancare era proprio il fiato. Non aiutava neanche il fatto che comunque nel palazzetto era molto umido e caldo e l'ho sofferto particolarmente, infatti durante i periodi di riposo tra una prova e l'altra cercavo di passare il più tempo possibile all'esterno del palazzetto. Comunque ho sofferto particolarmente queste prime tre prove quando sono arrivato a fare il log non ne avevo quasi più a livello di fiato proprio. Infatti non è andata male, però sono andato un po' come è andata, è stato sufficiente così, ma ero completamente, come si dice in inglese, out of breath. Senza fiato. Senza fiato, sì, comunque, ok. Sì, sicuramente permettimi di dire che gli eventi, cioè non gli eventi, sia la disposizione degli eventi, sia il tipo di gara, cioè come è stata fatta, nel senso che comunque i rookie erano separati, i pro erano separati, con una mancanza di pro nelle categorie minore, quindi meno 105, meno 90, meno 80, ha creato una gara molto veloce. Devo dire che per me nei rookie comunque è stata abbastanza veloce anche la gara nostra, dove erano molti di più, ma molti, molti di più. Anche io preferisco un passo molto più lento, per esempio in Spagna abbiamo iniziato alle 10 di mattina, abbiamo finito alle 7 di sera con 6 prove, quindi distanza comunque di 30-40 minuti tra una prova e l'altra. Lo preferisco molto di più e fare una gara così serrata, più secondo me si sale di categoria, quindi da meno 105 a Open, poi ovviamente meno 105 Pro, Open Pro e ha l'inizio di potenza, cioè comunque in generale avete fisicità che richiedono un pochino più di tempo di recupero tra una prova e l'altra, soprattutto a pesi così alti e secondo me è stato un quid in più che tu comunque si è riuscito a spuntartela in una gara dove non era congeniale alle tue caratteristiche. la struttura della gara sicuramente non mi era congeniale, mi ha ricordato un po' la prima gara che abbiamo fatto quest'anno in Repubblica Ceca dove condensati neanche due ore abbiamo dovuto fare tutte le 5 prove e capisco le esigenze di ovviamente eravamo in tanti il tempo proprio quello che era però ecco è stato veramente tassante. Di solito le gare che ho fatte in SCL quest'anno in media da inizio a fine si parla di 5-6 ore quindi c'è una differenza importante insomma. Sì sì anche perché poi il line up di atleti comunque sono una decina le prove magari vengono fatte in doppio quindi non è non è tanto il tempo di ogni prova neanche stai un'ora a fare la prova e poi quindi 5 prove sono 5 ore e non hai tempo di recuperare comunque penso in 20 minuti è finito gli altri 40 minuti sono di recupero tra una prova e l'altra più o meno 30-40 Sì più o meno questo quindi questo e beh hai diciamo scavalcato le prime 3-4 prove quindi per esempio keg in tuo yoke il log lo stacco il frame e poi siamo arrivati alla quinta prova che sarebbe le atlas ma ma già avevi la vittoria presente in mano cioè come vi dicevi prima per perdere sarebbe stato necessario che Ale vinceva e tu facevi 0 non aveva il genere no? esatto quindi era l'unica combinazione che avrebbe permesso a dare di vincere beh sapevo che avrei fatto almeno una replica stone quindi insomma mi aspettavo di fare 0 l'allenamento era un carico che avevo già spostato ecco in questo caso c'è stata un po' di attesa ho aspettato un pochettino fuori mi sono un po' raffreddato poi comunque iniziavo a pesare anche tutte le prove che abbiamo svolto fino a quel momento dopo la primissima alzata ho avuto dei crampi dei crampi abbastanza forti dai polpacci ai glutei polpacci femorali glutei ho provato a fare un'altra rep ma a quel punto la stavo alzando di lombari e non sono riuscito a portarlo al di là della sbaga quindi vabbè sapevo a quel punto di avere già vinto e non ho voluto forzare più di tanto è stato sufficiente così non era necessario il suo spettacolo ma farsi male non sarebbe stato tanto spettacolare quanto fare una rep in più nel senso che non secondo me sì anche perché non era necessario e quindi sei diventato campione italiano del 2022 non ti fa sentire questa cosa perché comunque io mi ricordo siamo conosciuti nel 2018 se non sbaglio alla massima di Parma e Log e Tardelift e da lì è passato parecchio tempo parecchia acqua sotto i ponti sono cambiate tante cose e da quel giorno lì che hai fatto la prima competizione in Italia ad oggi che sei campione italiano del 2022 come ti senti? è stato è stato un viaggio è stato un viaggio un viaggio lungo è stato un bel viaggio dove ho conosciuto anche persone che davvero è passata la pena di conoscere nell'ambiente ovviamente di strumento in Italia avversari amici amici ed avversari allo stesso tempo insomma è stato veramente un percorso interessante tutto è nato appunto nel 2018 eravamo in Italia io mia moglie di bimbi perché all'epoca avevamo ancora Taiwan e così un po' per scherzo ho deciso di iscrivermi a questa gara qui al Maxima l'ho contattato Lorenzo Gieri su Facebook e mi sono iscritto ma non avevo mai toccato un log non avevo mai fatto un allenamento specifico per lo stacco e sono in palestra a Taiwan e hai fatto 350 se non sbaglio sì 350 l'ho fatto ok a Taiwan diciamo non avevo molta concorrenza in palestra quindi mia moglie con mia moglie ci scherzava sempre un po' su questo quando sono venuto in Italia non l'ho fatto male però agli occhi di mia moglie ho fatto molto male e insomma mi prendeva un po' un po' in giro insomma e io gli ho detto così un po' scherzando gli ho detto guarda che se volessi un giorno potrei diventare il Trispa che smero e alla fine gli ho dovuto provare che tante volte quello che dico non lo faccio solo per parlare ma lo fai in fatti ce lo faccio per i fatti e anche lei poi è rimasto un po' sorpresa di questo percorso che abbiamo fatto perché quest'anno abbiamo avuto la fortuna di fare qualche gara SCL grazie ad Alessandro alla Fisman a Nuno insomma agli inviti che sono arrivati un po' dal nulla e ragionavo anche qualche giorno fa con i ragazzi in Barber Box che di fatto io in Italia ho fatto soltanto una gara completa ed è stata una gara ed è stata la finale e l'ho vinto quindi è stato un percorso veramente strano strano sì strano che ha sorpreso anche me in realtà beh secondo me non dovrebbe sorprendersi nel senso che forse noi stessi comunque tu stesso non ti rendi conto del lavoro e della dedizione che porti nel fare queste cose per te magari può sembrare normale probabilmente dal tuo background comunque sportivo mentre mentre magari non è così quindi in realtà non è nulla di cascato dal cielo ma è tanto di guadagnato da quello che fai almeno quello che si vede da fuori poi ovvio per te stesso dici ok per me è la normalità io faccio così sono fatto così lo faccio però sicuramente sicuramente c'è tutto un insieme di cose credo che non so ma una parte del risultato che hai ce l'è anche per l'aiuto magari che Emi ti dà nel fare le cose immagino quindi ti ringrazio per le buone parole sì sicuramente Emi Emi ha sempre chieduto che potessi non ci ha mai chieduto fino in fondo però mi ha sempre aiutato e supportato in fondo lo sapeva che è più apprezzabile perché se ci chiede in maniera comunque passami i termini cieca lo fai basta se invece lo fa non essendo magari sicura fino in fondo ma continua a farlo è ancora più apprezzabile quindi quindi credo che ogni grande strongman comunque ha qualcuno accanto che possa essere una donna un amico o o chi altro che comunque lo supporta per quanto poi ognuno deve essere la colonna portante di se stesso e diciamo che come colonna non sei tanto piccolo insomma dai no però anche a livello psicologico di aiuto certo certo sicuramente avere una persona come me accanto che che aiuta non so nello storm nel lavoro con la famiglia tutto insomma è un aiuto grandissimo ed è veramente una cosa che apprezzo molto però come dicevo prima che il cammino ho incontrato anche altre persone adesso ci nominiamo sempre a vicenda però quando sono rientrato in Italia nel 2020 non avevo esperienza di molti eventi storm mi allenavo in palestra facevo le mie cose e ho contattato Alessandro ho contattato Alessandro Castelli su Facebook e gli ho chiesto se mi faceva fare qualche lezione per capire come girare il log perché è proprio assurdo non sopevo girare un log facevo fatica con l'axo perché lo faccio ancora adesso non avevo mai toccato le stone quindi è stato anche Alessandro ovviamente senza di lui non avrei fatto neanche 10% di quello che sto facendo perché mi ha portato dall'essere un gym rat come si dice quindi uno che spassa le sue notate in palestra anziché davanti alla tv a essere di fatto uno strommel cioè mi ha un po' mi ha fatto credere che potevo essere credibile come strommel mentre prima mi sentivo soltanto uno che stava faceando un po' di peso in palestra è stato un cambiamento che penso si sia notato tanto nelle gare anche internazionali ma anche in questa finale ed è un cambiamento che è dovuto dovuto principalmente al lavoro che ha fatto Alessandro con me e sia chiaro è un mio avversario Alessandro sì è un mio avversario però sai com'è lo strommel no siamo tutti avversari ma siamo anche tutti amici no nel senso è quello il bello che comunque da avversario e credo che questo avvenga in maniera trasversale in tutti i livelli vedevo anche che ne so ero invitation dove comunque atleti si davano consigli sulle prove anche essendo comunque avversari credo che sia bello che comunque è una persona che è avversaria quindi dovrebbe cercare di vincere comunque ti aiuta a migliorare te stesso secondo me anche perché Alessandro è un atleta ed atleta secondo me è una persona vuole vuole vincere contro i più forti o comunque vuole gareggiare contro i più forti non vuole che l'altra persona che ne so se infortuni si faccia male o non vuole non vuole gareggiare e quindi vince perché non c'è nessuno sì no poi spero di essere stato comunque anche di motivazione per Alessandro per fare meglio quindi io penso un pochettino sia migliorato anche lui appunto per questa sana competizione spero in parte anche per via di questa sana competizione tra di noi poi lungo il cammino anche altre voglio dire altre persone il team è cresciuto strada facendo i ragazzi del Bulwark che sono sempre per aiutarmi a supportarmi durante gli allenamenti il Bulwark stesso che mi dà la possibilità di allenarmi lì da loro i ragazzi del Barbel Box lo sai anche tu Marco Carpani sono sempre sempre lì disponibili mi aiutano a scaricare i pesi che è una cosa noiosissima soprattutto per i carichi che facciamo noi che non è qualcosa che ti aspetti cioè loro sono lì a fare altro invece sono sempre stati disponibili mi hanno sempre supportato e ho sempre avuto questo sentimento che credevano in me in quello che stavo facendo e me lo hanno dimostrato anche alla finale dove li ho visti veramente sbraitare veramente più non posso supportarmi e veramente ringrazio tutti perché è stato un cammino lungo ma è valuta la pena percorrerlo anche per le persone che ho incontrato appunto con questo cammino e ora il cammino non penso si fermerà giusto? no dove andrà questo cammino? adesso il primissimo impegno che avrò sarà il Maxima di dicembre dove cercherò di migliorare la mia alzata dell'anno scorso e vedremo se riusciremo a fare qualcosa di più anche grazie al corpetto dove però devo ancora trovare una soluzione diciamo che non ci entri bene nei corpetti intenzionali cercherai di trovare una soluzione da ingegnere così diciamo sì cercare di trovare una soluzione personalizzata se riusciamo punteremo dei numeri magari un pochettino oltre i 400 kg diciamo attorno ai 420 mi piacerebbe se dovessi gareggiare mi piacerebbe finalmente raggiungere questi 400 kg che ho mancato l'anno scorso di 10 kg non parteciperò invece per quanto riguarda l'Axo perché purtroppo sono ormai più di 6 mesi che ho dei problemi e abbiamo abbraccio ai polsi ricorderai che me ne lamentavo già durante la gara a squadra in Portogallo e il problema non si è mai risolto al 100% quindi sono mai più di 6 mesi che ho abbraccio ai polsi a pezzi e l'Axo non è molto diciamo propedeutico per guarire una situazione del genere è che non lo posso assicurare io ho lo stesso problema a un polso e ho difficoltà a girare un Axel da 50 kg e quello che ti dico è che purtroppo questi problemi come ben sai perdurano nel tempo non è un dolore muscolare che ti viene hai dolore anche forse facendo ricordo uno strappo muscolare comunque ti passa più velocemente è un problema che non è così cioè non è così invalidante ma dura per molto più tempo quindi diventa invalidante nel tempo e non potersi anerare in certe cose comunque io credo che darei già abbastanza spettacolo nello stacco ma ti faccio una domanda c'è qualcuno visto che poi Matteo per esempio Tonelli non gareggerà c'è qualcuno secondo te che può puntare a battere il record di Matteo comunque a dei carichi effettivamente importanti c'è Frank di Country di Dettacolo a lui non gli piace che lo chiamo così ma in realtà io li voglio bene è un bel soprannome che è uno io penso che siamo uno dei suoi nomi più belli dello Strongman e più aziendati per l'altro che prenditi il merito sei stato tu a dargli sono stato io a dargli a lui so che non gli piace tantissimo però penso che lui possa fare molto bene è un ragazzo molto determinato c'è una tantissima grinta ha tanta voglia di dimostrare che può fare molto bene so che sono nel suo merino che mi sta puntando quindi vedremo vedremo cosa succederà al maxima ma sono anche suo fan lo dico lo dico chiaramente sarei felice di vederlo fare molto bene però sarà comunque una gara una competizione e vedremo chi farà meglio l'importante è anche interessante comunque avere qualcuno che ti spinge magari a dare di più che essere lì da solo e dire ok devo fare devo raggiungere il mio obiettivo comunque magari riesci a farlo però se c'è qualcuno che ti sproni si sta dietro o ti spinge magari il livello si alza ancora di più quindi sarà scusami se ti interrompo Luigi voglio ricordare anche una cosa che abbiamo inviato una serie di inviti dei ragazzi dei ragazzi stranieri che potrebbero partecipare al Maxima e sono comunque atleti di alto livello per cui ci sarà una competizione insomma ci sarà molta competizione anche con questi ragazzi qui siamo ancora in attesa di una serie di conferme ma si prospetta secondo me una gara molto interessante e molto divertente da seguire speriamo speriamo veramente sia ben ben impolpati agli atleti con grandi aspettative e grandi numeri perché comunque alla fine il Maxima è il Maxima nel senso che i numeroni devono uscire per forza ognuno porterà il suo chi lo farà per un discorso personale chi lo farà invece per qualcosa di più nel senso per cercare di battere un record o cercare di battere qualcun altro non so detto questo per concludere dopo il Maxima invece quali sono i tuoi obiettivi per l'Unione da 23? L'anno prossimo mi piacerebbe concentrarmi sulle gare internazionali dovrei riprendere con il discorso SCL già nel mese di aprile con la tappa in Finlandia per quanto abbiamo discusso con i ragazzi dell'SCL poi sarà da confermare però vedremo mi piacerebbe poter partecipare a più eventi così da cercare di ottenere la qualificazione per la finale dell'SCL questa sarebbe una cosa interessante per me vorrei anche esplorare alcune possibilità di qualifica per l'SG o comunque qualcosa che mi possa avvicinare a questo Angersman che rimane comunque l'obiettivo finale penso di tutti noi strommel quindi penso mi concentrerò principalmente sulle gare all'estero nel mese di luglio abbiamo anche il War Strongest latino nel suo nuovo formato che appunto sarà in Portogallo il 23 di luglio sarà interessante una gara con tanti atleti mi sembra che saremmo 24 atleti quindi sono interessato a capire che tipo di formato sarà e penso sarà una gara molto divertente ecco più o meno questo insomma bene bene e cercherai ovviamente di riconfermare poi il titolo nel 2023 sì certo insomma l'obiettivo è anche quello spero non cozzerà con la preparazione delle gare internazionali ma del resto anche quest'anno è successa la stessa cosa quindi si farà qualche sito a fare sì quello sicuramente diciamo che credo che a livello pro poi sia molto più come come succede a te che la gente fa gare comunque viene chiamato all'ultimo comunque fa una gara dietro l'altra e magari più quello dell'allenamento dell'effettivo allenamento in palestra talvolta che il fatto che uno magari a parte quegli livelli più alti che magari scegliono le competizioni durante l'anno sanno che saranno invitati fanno quelle e si preparano per quelle comunque ti auguro di riuscire a portare avanti tutti i tuoi obiettivi durante l'anno e se riuscirò se riuscirò durante l'anno a parte i miei impegni dove magari cercherò per esempio di farmi Barcellona o Sevilla comunque a settembre l'anno classic però cercherò di partecipare il più possibile agli eventi esteri per godermi lo spettacolo se non altro sei sempre di grandissimo aiuto però ve lo fare il cameraman se Marcell non mi spara diciamo che a parte quello se qualcuno sono stato da solo a Gibraltar è comunque una cosa diversa che leggere da solo rispetto a quello lo posso solo immaginare comunque Andrea ti ringrazio per questa bellissima intervista spero che chi la vedrà si divertirà quanto mi sono divertito io ringrazio tutti diciamo i ragazzi di Strono Italia tutti quelli che sono riusciti a preparare questa finale portarla a compimento e hanno permesso a te a me a tutti gli altri ragazzi di di competere mi unisco sicuramente al ringraziamento e un ringraziamento anche a tutti i partecipanti agli avversari agli atleti a chi a chi si è messo in gioco un ringraziamento a tutti per esserci stati e speriamo di essere sempre di più perfetto grazie mille Andrea grazie a tutti buona nottata che sono le 2.01 per chi lo vedrà magari la mattina alle 10 ma qui sono le 2 quindi grazie a tutti e alla prossima alla prossima intervista ciao Andrea grazie a tutti